Fratelli d'Italia oggi ha presentato le candidature per le prossime politiche del 25 settembre. Come preannunciato, la leader nazionale del partito, Giorgia Meloni, è candidata all'uninominale Camera nel collegio L'Aquila Teramo. Nella conferenza stampa all'hotel 99 Cannelle, tutti candidati, con il presidente della regione Marsilio, il sindaco dell'Aquila Biondi, il coordinatore regionale Sigismondi. Per quel che riguarda le liste, a parte la Meloni, nel collegio uninominale Camera di Pescara, il candidato è Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia della regione. Nel collegio uninominale Senato Abruzzo c'è l'assessore Guido Liris. Nella lista plurinominale Camera i candidati sono Fabio Roscani, presidente nazionale della gioventù nazionale, Rachele Silvestri, deputata di Fratelli d'Italia, Antonio Tavani, sindaco di Fara San Martino, Benedetta Fasciani, componente dell'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia. Nella lista plurinominale Senato ci sono Etel Sigismondi, coordinatore regionale del partito, Marilena Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia di Teramo, Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo. Liste forte e tante aspirazioni. L'Abruzzo e l'Aquila in particolare sono stati sempre un grande laboratorio per Fratelli d'Italia, con la vittoria di Pierluigi Biondi, il primo sindaco di un capologo di regione di Fratelli d'Italia, subito dopo l'elezione di Marco Marsilio, il primo presidente della regione di Fratelli d'Italia, la riconferma di Pierluigi, come dire, Fratelli d'Italia ha nell'Abruzzo un grande laboratorio e riteniamo che possa portare bene anche per il governo della nazione, perché noi vogliamo esportare il buon governo che la classe dirigente di Fratelli d'Italia ha dimostrato su questo territorio, lo vogliamo esportare anche a livello nazionale. Per il presidente della regione Marco Marsilio, la candidatura della Meloni è un'assoluta garanzia che i grandi temi che riguardano l'Aquila e l'Abruzzo siano al centro dell'agenda nazionale dal momento che la Meloni è favorita per rivestire la carica di prossimo presidente del Consiglio. Per l'Aquila e per l'Abruzzo è una straordinaria opportunità, pensare che una regione troppo spesso marginalizzata, che negli ultimi anni non ha avuto praticamente esponenti di governo, possa esprimere nel proprio collegio elettorale la donna che le previsioni danno, noi lavoreremo per questo, come favorita nella corsa alla presidenza del Consiglio, quindi immaginare cinque anni in cui il capo del governo ha un rapporto speciale e diretto con le città dell'Aquila e Teramo e con l'Abruzzo in generale, questo è per la nostra regione davvero un momento di svolta e prefigura la possibilità di andare davvero a sanare una serie di ritardi storici.